Ciao amici di IANUWEB TV, siamo con Crotta di Lucca, allora un primo tempo abbastanza difficile, comunque siete ancora in partita, come la vedi? Ma sicuramente sul secondo tempo dobbiamo cercare un attimino di giocare più fluidi, siamo concentrati molto con la palla sotto canestro e adesso sicuramente gli avversari si adatteranno e dovremo sicuramente giocare più sull'arco, per magari qualche tiro da fuori, qualche penetrazione scarico quindi abbiamo ancora molto lavoro, però 9 punti è fattibile ancora, abbiamo tutto da giocare Va bene, buon secondo te Grazie